Ma non penso questa vittoria di mia squadra che ha interpretato tutto questo cosa abbiamo parlato e è riuscita a cambiare dopo i primi 15 minuti una volta, secondo tempo ancora seconda volta e penso quando era possibile eravamo anche belli nel palleggio quando girava la palla e contro piedi forse una o altra volta potevamo sfruttare un po' meglio ma sono molto contento e molto orgoglioso di questo gruppo ma nessuno particolare alla società che ha creduto in me e sicuramente a questi giocatori che hanno oggi dimostrato che valgono tutto questo cosa si è scritto ultimamente e che possono anche competersi anche con altre squadre di alto livello e spero che si continua così riposando e preparandosi bene che continua anche in prossima partita